Doria Francesco lavoro in RSE da dicembre 2021. Mi aspetto dal percorso all'interno di RSE di poter contribuire in maniera concreta alla transizione energetica e a rendere il modello di sviluppo di questo paese più sostenibile e più attento all'ambiente. Da questo percorso di onboarding mi aspetto di conoscere i miei colleghi, quelli che sono saliti con me da relativamente poco tempo all'interno dell'azienda e di avere la possibilità di costruire una rete per il trasferimento di conoscenze all'interno dell'azienda e a vantaggio dell'azienda.